Dall'idrovora di Chiesa nel comune di Massarosa esce una fanghiglia nera, forse torba, che sedimenta sul corso d'acqua che a meno di 200 metri si immette nel lago Massaciuccoli. Sono allarmati i cittadini che vivono nelle vicinanze e che hanno presentato sia al comune che al consorzio di bonifica un esposto chiedendo rassicurazioni su un possibile danno ambientale. Il lago si è completamente riempito di questa sostanza torbosa che continua ad essere emessa con le pompe dell'idrovora di bonifica nel lago per prosciugare dei campi che non sono mai stati coltivati due metri e mezzo sotto il livello del mare. La manutenzione dov'è? Bisogna che cominciano anche un pochino di manutenzione. Se fossero scavati scorre meglio l'acqua, insomma sarebbe una cosa un po' più... La pompa idrovora la smetta di continuare a buttare torba nel fosso collettore che va verso il lago per alzarlo sempre di più. Ma non è tutto. Con la siccità il livello dell'acqua si è abbassato notevolmente lasciando scoperta buona parte della sponda fatta di torba. Il pericolo, dicono gli abitanti, sono queste sabbie mobili a cielo aperto. E con l'abbassamento del livello del fosso a questo punto c'è un fango anche pericoloso, una sorta di sabbia mobile. Quello, il padule è così, la mota, noi si chiama mota questa qui, è così, è una cosa... Il fango, cioè è la torba, non ha consistenza ecco, sicché è una cosa normale questa qui, normale perché ci viene pompata ecco. Però il padule, il nostro padule è così, non c'è la sabbia come a Viareggio. Il consorzio di bonifica, da noi interpellato, nega che venga scaricata nel corso d'acqua la torba. Noi, spiega un addetto, con le nostre idrovore alla piaggetta spostiamo solamente l'acqua dalla piana di Chiesa nel canale in questione. Dunque, nessun inquinamento.